Salve a tutti ragazzi, oggi nuovo video e nuovo volo col Marichè, destinazione Monte Poieto, il monte è quello là, quindi adesso prendiamo la cabina via e andiamo fino alla cima del monte e poi voliamo. Ragazzi siamo quasi arrivati alla meta, ormai ci siamo. Ma ragazzi oggi ho fatto volare anche il drone di mia figlia di tre anni, eccolo, magari è meglio del Mavi, chi lo sa. Grazie. 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 Ragazzi, anche il volo a Monte Poietto in bassa ariana è finito, paesaggio stupendo, c'era pure la neve, non ce ne aspettavamo così tanta, quindi come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie a tutti